In questa edizione di Salute e Società, campagna di sensibilizzazione, mieloma ti sfido, mal di schiena, la spondilite anchilosante, osservatorio sull'atopia, una malattia invalidante, oncologia, il tumore testa a collo. Bentrovati da Marco Caracciolo. I due campioni olimpici di scherma, Elisa Di Francisca e Aldo Montano, sono i testimonial della campagna di sensibilizzazione mieloma ti sfido, promossa da AIL in collaborazione con Lampada di Aladino e con il contributo non condizionante di Selgin. Mieloma ti sfido è la campagna promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma e la Lampada di Aladino, con il contributo non condizionante di Selgin. L'obiettivo è far conoscere i grandi traguardi raggiunti grazie a innovazione e ricerca nella cura di questa patologia tumorale e dare coraggio ai pazienti affinché non si arrendano e lottino contro la malattia, proprio come si fa nella scherma, dove l'atleta nel duello con l'avversario può avanzare e a volte arretrare, ma non si arrende mai. Testimonial d'eccezione i due campioni olimpici, rispettivamente Di Sciabola e Di Fioretto, Aldo Montano ed Elisa Di Francisca. Questa è una malattia che fino a dieci anni fa era senza speranza praticamente per tutti i pazienti, con sopravvivenze limitate e scarsa qualità di vita. Oggi è diventata una malattia curabile che è stata in pratica con le nostre terapie cronicizzate. Il paziente può sopravvivere tanti anni anche con degli alti e bassi, ma sempre con la possibilità di utilizzare nuovi farmaci capaci di controllare la malattia e la qualità di vita di queste lunghe sopravvivenze è molto buona, quindi ha cambiato radicalmente lo scenario. Rifacendosi dunque alla metafora della scherma, la campagna porta in varie piazze d'Italia, iniziando da Roma, la bellissima installazione I due duellanti ed è possibile seguirla sul web andando sul sito www.mieloma.tisfido e sui social con l'hashtag Io ti sfido. Sappiamo lottare, sappiamo sfidare un avversario e questo è il messaggio. Non abbassare mai la guardia, combattere, aspettarsi dei momenti negativi perché è quello che abbiamo capito oggi anche della conferenza che ci saranno, però la stoccata finale deve essere la stoccata del paziente, quindi il paziente che vince sopra la malattia. La cura del mieloma è molto cambiata da 20 anni a questa parte, ma in particolare negli ultimi 5, grazie all'introduzione di nuove medicine specifiche che hanno portato in media la sopravvivenza dei malati da due anni e mezzo a dieci anni. Si pensi a quelle che erano le infusioni una volta di farmaci e cose, adesso si può fare con una pillola e si può fare con un'infusione ogni tanto andando anche poco magari in ospedale, questo vuol dire avere un concetto completamente diverso, questo vuol dire mieloma ti sfido perché i pazienti devono sapere che possono tenere sotto controllo la malattia e continuare a vivere bene. Sfidiamo il mieloma multiplo, non abbassiamo mai la guardia. La spondilite anchilosante incide sensibilmente sul movimento della colonna vertebrale, compromettendo la funzionalità fisica e la qualità della vita. Colpisce l'1% della popolazione e insorge tipicamente nei giovani dai 25 anni in poi. Conoscere la genesi del proprio mal di schiena per poterlo identificare meglio e conoscerlo meglio per poterlo combattere con maggior successo. Questo è l'obiettivo che si pongono medici e farmacisti aiutando e collaborando con i pazienti nella lotta quotidiana contro una malattia, la spondilite anchilosante che colpisce l'1% circa della popolazione. Ma come capire se si sia vittime di un normale mal di schiena o della spondilite anchilosante? Mentre il primo è di tipo meccanico ed è correlato a malattie degenerative come l'artrosi o l'ernia del disco, il secondo colpisce persone fra la seconda e la quarta decade di vita, soprattutto uomini. Ed è un mal di schiena di carattere infiammatorio, ovvero caratterizzato da un dolore notturno in aumento a riposo e in diminuzione con l'attività fisica e che alla mattina si accompagna una rigidità che può avere la durata di qualche ora. La spondilite anchilosante è una malattia infiammatoria cronica che colpisce la colonna vertebrale principalmente, per cui spesso può essere una malattia misconosciuta in quanto è stato dimostrato che circa una persona su 20 che soffre di mal di schiena, del banale mal di schiena, in realtà è affetto da spondilite anchilosante. Noi dobbiamo sospettare la spondilite anchilosante che è una patologia invalidante che può portare in validità permanente, quindi una malattia seria che può dare anche un impegno d'organo rispetto al banale mal di schiena. Quando ci troviamo davanti a un paziente che ha una lombalgia con delle caratteristiche particolari che è la lombalgia infiammatoria, cioè il paziente ci dirà che ha un dolore principalmente notturno, che peggiora con il riposo, migliora con il movimento e che dà al mattino un impaccio mattutino che può durare anche ore, perché il paziente deve sapere che non può essere solo un banale mal di schiena ma può essere una malattia ben più seria, deve ricorrere al proprio medico di medicina generale, il quale medico di medicina generale deve mandare celermente il paziente dal reumatologo, perché il reumatologo è lo specialista che cura questa malattia. Ecco che il ruolo del farmacista correttamente formato è quello di aiutare e indirizzare il paziente nella maniera migliore. Per noi questa della spondilite anchilosante non è una novità, l'abbiamo già fatto con il diabete, l'abbiamo già fatto con l'asma e con la BPCO e con la cefalea e con tante altre patologie nelle quali il farmacista può ben collegarsi agli specialisti e ai medicini di medicina generale per prendere correttamente in carico il cittadino. L'osservatorio sull'atopia nasce per favorire l'accesso tempestivo ed equo alle terapie per i pazienti e per riconoscere l'atopia come malattia invalidante ed inserirla nei livelli essenziali di assistenza. Favorire l'accesso tempestivo ed equo alle terapie e riconoscimento dell'atopia come malattia invalidante e il suo inserimento nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Nasce con questi obiettivi l'osservatorio sull'atopia promosso da Sanofi Genzyme in collaborazione con un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da clinici, istituzioni e associazioni dei pazienti. Avere un osservatorio oggi è fondamentale non solo per stabilire il peso di una patologia nella società ma soprattutto far capire di cosa c'è bisogno di finanziamenti prima per la ricerca, secondo di creare quella interazione necessaria tra discipline diverse e mettere insieme i ricercatori con le aziende. Questo oggi è l'unico modo per trovare delle soluzioni. L'atopia è una condizione complessa in cui il paziente tende a manifestare risposte immunitarie amplificate nei confronti di minime quantità di allergeni. Atopia significa no luogo, è in realtà il significato di una reazione anomala dal punto di vista immunologico verso sostanze che, pensate ai pollini, che normalmente a una persona normale non creano nessun problema. ma in realtà la situazione è estremamente complessa. Oggi si è definita come un'infiammazione sostenuta da determinate cellule per cui viene definita di tipo 2 che accomuna tutta una serie di patologie, serie di patologie quali la dermatite atopica, l'asma, la poliposi nasale, l'esofagite osinofila. Le patologie atopiche sono molto diffuse in Italia. Tra queste l'asma colpisce quasi 4 milioni di persone. Di dermatite atopica soffre tra il 2 e il 5% della popolazione adulta. Significativi gli effetti sul piano lavorativo e sociale. Forte l'impatto sulla qualità della vita, con elevati costi per il paziente e per la collettività. E proprio per far sentire la voce dei pazienti, le associazioni Andea e Federasma e Allergie hanno aderito al progetto. Sarà un luogo importante dove mettere insieme, dove stanno convergendo le forze e gli sforzi delle associazioni dei pazienti, nonché dei medici. E vuole essere un luogo di informazione per i pazienti, per le istituzioni e per la società civile. Che così speriamo verrà sensibilizzata circa un problema che coinvolge tante persone ma che soprattutto nelle forme più gravi come la dermatite atopica grave ad esempio ha un impatto molto forte sulla capacità delle persone di proseguire la vita di tutti i giorni, di lavorare, di andare a scuola. Il tumore testa-collo comprende i tumori che si sviluppano all'interno o attorno a faringe, laringe, seni nasali e paranasali e cavo orale. Pembrolizumab in prima linea migliora la sopravvivenza. Presentati a Monaco al Congresso della Società Europea di Oncologia Medica, i risultati dello studio Kino 048 sul trattamento del tumore testa-collo che può colpire faringe, laringe, seni nasali e paranasali, cavo orale. Lo studio ha valutato l'efficacia di Pembrolizumab sia da solo che in combinazione con chemioterapia nel trattamento di prima linea, somministrato cioè a pazienti mai trattati prima, del carcinoma a cellule squamuse della testa e del collo, recidivato o metastatico. Lo studio è uno studio randomizzato di fase 3 a tre bracci che confronta in pazienti con tumore recidivato o metastatico in prima linea il Pembrolizumab verso lo standard of care che è rappresentato fino ad oggi da una combinazione di chemioterapia di cetuximab, regime che viene chiamato sinteticamente extreme e il terzo braccio che è sempre un braccio sperimentale invece è una combinazione di chemioterapia con Pembrolizumab che viene confrontato sempre verso regime extreme. I primi dati dello studio hanno mostrato che la terapia col solo Pembrolizumab ha migliorato la sopravvivenza globale rispetto all'attuale standard di cura rappresentato dal regime extreme. I risultati ci dicono essenzialmente tre cose fondamentali. Che il Pembrolizumab da solo ha dimostrato un miglioramento della sopravvivenza globale. Il secondo punto importante è che il Pembrolizumab ha dato sì una percentuale di risposte obiettive leggermente inferiore a quella che otteniamo invece solitamente col regime di riferimento. Ottenevamo prima una risposta a ogni tre pazienti, il Pembrolizumab sembra dare da solo una risposta a ogni quattro pazienti ma la cosa effettivamente straordinaria è stato il miglioramento della durata di queste risposte che passa da 4.5 mesi addirittura a 21 mesi. E qui appunto il terzo punto fondamentale è che tutto questo è stato ottenuto con una riduzione significativa della tossicità. Tanto è vero che l'incidenza di effetti collaterali severi con il Pembrolizumab è stata solo del 17% verso un 69% che è stato rilevato con il trattamento standard. Per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo, arrivederci! Grazie a tutti!